Allora intanto come vedete c'è la squadra della manutenzione, entro stasera dovrebbe essere illuminata l'ex arena Lobaito, stiamo dando una ripulita, nei giorni prossimi cercheremo con la squadra di manutenzione di dare una ripulita al verde, di tagliare tutte queste erbacce e voglio sperare che la città si riappropri di questo spazio, ci vorrà il tempo, non abbiamo risorse umane sufficienti, stiamo cercando di fare dei miracoli, abbiamo chiesto a tutti gli impiegati di fare uno sforzo maggiore, voglio sperare che questo sia un angolo da riconquistare, la città si deve riappropriare dei propri spazi, la gente per bene deve sapere che qua può venire, ho già sentito il capitano dei carabinieri ma anche la dottoressa Ortona che ci ha assicurato una maggiore presenza, quindi cerchiamo di mettere in sicurezza anche questo spazio, insomma stiamo cercando di fare l'impossibile perché questa città diventa una città normale, ci stiamo provando in tutti i modi, nel frattempo spingiamo anche su tante altre cose in parallelo per non lasciare nulla indietro, Spero che i risultati arrivino, siamo soddisfatti di quello che sta succedendo a Partenico, c'è una rivoluzione proprio culturale, la voglia e il desiderio di cambiare questa città, c'è un senso di appartenenza diverso, c'è la voglia di una qualità di vita superiore rispetto a quella degli anni passati e su quest'onda noi vogliamo fare la nostra parte fino in fondo, non ci risparmieremo. Il centro di urno per anziani lo ripristineremo, abbiamo già avviato tutte le procedure, cercheremo di trovare una soluzione che sia risolutiva per sempre e soprattutto che ci consenta di avere una presenza costante. Abbiamo un paio di idee che porteremo a compimento con la realizzazione delle opere nei prossimi mesi, ma intanto ci sarà un presidio permanente, abbiamo avuto già una discussione con la protezione civile, con i vigili urbani, cercheremo di avere sempre una presenza costante e anche notturna in quest'area. Oggi c'è un bisogno di sicurezza ed è quello che stiamo tentando di fare, la gente deve uscire e deve stare tranquilla.